Sarà allestito lunedì il cantiere per la realizzazione del marciapiedi sulla via sarzanese a Capezzano Pianore. Si tratta del primo lotto che vedrà la prosecuzione del camminamento pedonale Lato Monti dal cimitero fino a via Pennelle, seguito a stretto giro da un secondo lotto che porterà il marciapiedi fino alla Dogana. Lì, per dare risposta alle tante attività, sarà realizzato un parcheggio nel boschetto a fianco della farmacia. Interventi molto attesi per mettere in sicurezza una delle strade più trafficate e pericolose di Camaiore. Proprio nella zona della Dogana è stato oggetto anche di incidenti mortali quindi per noi è una priorità assoluta. Chiaramente la prosecuzione inizia da qui perché qui già c'era i primi interventi realizzati dalla precedente amministrazione quindi la logica voleva che si partisse da qui dal cimitero ma già il secondo lotto è in fase di progettazione definitiva esecutiva quindi probabilmente già alla fine di questi lavori ci sarà l'inizio del lotto successivo. Purtroppo sul parcheggio noi eravamo fermi perché non era previsto nel nostro piano operativo che è diventato esecutivo dal 24 settembre del 2022. Chiaramente da quel giorno noi siamo nelle condizioni di poter proseguire, di dare gli incarichi e lavorare anche su quel parcheggio. I lavori del primo lotto costeranno circa 300 mila euro e durante gli interventi la viabilità della Sarzanese sarà senso unico alternato? Invaderanno un po' anche il piano stradale quindi un po' di pazienza verranno montati i semafori senza unico alternato e tutto quanto però insomma ecco vediamo di creare meno disagio possibile.